Onorevole Di Maio, la Camera ha bocciato la richiesta del Movimento 5 Stelle di rinvio in commissione della riforma costituzionale. Cosa farete da qui a sabato, giorno della deadline annunciata dal Governo per l'approvazione della riforma costituzionale? Ci occuperemo di problemi dei cittadini. In questo momento il Parlamento è bloccato su leggi elettorali e riforme costituzionali, mentre Renzi a Parazzo Chigi taglia 9 milioni e mezzo di euro dalla terra dei fuochi in una zona dove la gente muore di tumore. Cosa può cambiare in Aula la nuova linea, la posizione più intransigente di Forza Italia che ha annunciato voterà solo a favore degli articoli per il bene del Paese? Per i cittadini italiani non cambia niente. Questa è una riforma esclusivamente atta a spartirsi qualche poltrona al Senato. Si prendono i consiglieri regionali, la classe politica più indagata d'Italia e la si mette nel Senato. Anche sull'Italicum Renzi ha annunciato di voler andare spedito e senza sostanziali modifi. Ma Renzi va spedito soltanto quando si tratta di premi di sbarramento, premi di maggioranza, sbarramenti al 3%, ma i problemi delle piccole e medie imprese che noi stiamo risolvendo, tassandoci, tagliandoci lo stipendio. Renzi, quando pensa di affrontarli? Vorreste più tempo per discutere il decreto legge cosiddetto banche popolari? Ma il decreto legge banche popolari prevede prima di tutto un conflitto di interessi. Il padre della Boschi è nel CDA di una delle banche popolari, il padre del ministro Boschi. Qui si sta mettendo mano soltanto alle cose che interessano a loro, ai fatti loro. È un periodo di maggioranza variabile. Il governo si allea con diverse forze politiche in base al tema in questione. Pensate di potervi inserire anche voi da qualche parte? Ma noi ci siamo per le cose buone. Non siamo entrati qui dentro per dire sì a tutto. Altrimenti bastavano Fini, bastavano Alfano, quelle persone che abbiamo visto negli ultimi vent'anni. Noi siamo entrati qui per fare cose buone insieme agli altri. Quando vorranno fare una legge anticorruzione che manda in galera finalmente chi si macchia dei reati di corruzione, noi siamo disponibili. Quando vorranno fare un reddito di cittadinanza, noi ci siamo. Per tutto il resto siamo il cane da guardia di un governo che pensa solo agli affari suoi.